Manca una settimana esatta al suono della prima campanella nelle scuole elementari e medie di Milano. L'estate è servita non solo al meritato riposo di alunni ed insegnanti ma anche allo svolgimento di svariati lavori di manutenzione negli edifici, in particolare per la prevenzione incendi, l'abbattimento delle barriere architettoniche e la sistemazione di servizi igienici. Un pacchetto di interventi che ha richiesto investimenti per 45 milioni di euro. In contemporanea sta procedendo la mappatura degli edifici scolastici per capire quali sono gli interventi prioritari ed evitare che si ripetano situazioni come il crollo del controsoffitto alla scuola Stoppani avvenuto lo scorso marzo o le infiltrazioni alla primaria di via Console Marcello che causarono la chiusura di 10 aule. Le verifiche sono ormai al primo giro di boa e sono state controllate all'incirca metà delle scuole. Purtroppo alcuni studenti dovranno convivere con i lavori in corso come alla stessa Stoppani dove gli interventi di ripristino di 5 aule dureranno un semestre con un costo totale di 250 mila euro. Dovrebbero concludersi invece entro l'autunno i lavori alla scuola di via Viscontini mentre sta per partire il cantiere per la copertura della materna di via Lungheria. Indirittura d'arrivo la sistemazione delle facciate e della copertura in via della Spiga. Sono invece fermi i cantieri di Deruta, Boifava, Liscate e Cagliero che riguardano la sostituzione di serramenti. La ditta incaricata dell'appalto aveva i propri magazzini a Genova nelle vicinanze del famigerato Ponte Morandi. Il crollo ha causato lo slittamento all'autunno dei lavori. Infine sono in via di svolgimento le certificazioni anti incendio già concluse in 30 scuole su 70 e sono in partenza lavori di efficientamento in collaborazione con GSE, il gestore dei servizi energetici per rendere le nostre scuole meno sprecone e più confortevoli anche durante l'inverno.